Aprile. Primavera. 1. Sabato. Primo d'aprile. Tre soli mesi ancora. Questa è stata una delle più belle mattinate dell'anno. Io ero contento nella scuola perché Coretti mi aveva detto d'andar dopodomani a vedere arrivare il re insieme con suo padre che lo conosce e perché mia madre mi aveva promesso di condurmi lo stesso giorno a visitare l'asilo infantile di Corso Valdocco. Anche ero contento perché il muratorino sta meglio e perché ieri sera passando il maestro disse a mio padre va bene va bene e poi era una bella mattinata di primavera. Dalle finestre della scuola si vedeva il cielo azzurro, gli alberi del giardino tutti coperti di germogli e le finestre delle case spalancate con le cassette e i vasi già verdeggianti. Il maestro non rideva perché non ride mai ma era di buon umore tanto che non gli appariva quasi più quella ruga dritta in mezzo alla fronte e spiegava un problema sulla lavagna celiando e si vedeva che provava piacere a respirare l'aria del giardino che veniva per le finestre aperte piena di un buon spiegava. Si sentiva in una strada vicina un fabbro ferraio che batteva sull'incudine e nella casa di faccia una donna che cantava per addormentare il bambino. Lontano nella caserma della cernaia suonavano le trombe, tutti parevano contenti persino a stardi. A un certo momento il fabbro si mise a picchiar più forte, la donna a cantar più alto. Il maestro si interruppe e prestò l'orecchio. Poi disse lentamente guardando per la finestra, il cielo che sorride, una madre che canta, un galantuomo che lavora, dei ragazzi che studiano, ecco delle cose belle. Quando uscimmo dalla classe vedemmo che anche tutti gli altri erano allegri, tutti camminavano in fila pestando i piedi forti e canticchiando come alla vigilia di una vacanza di quattro giorni. Le maestre scherzavano, quella della penna rossa saltellava dietro i suoi bimbi come una scoloretta. I parenti dei ragazzi discorrevano fra loro ridendo e la madre di Crossi, l'erbaiola, ci aveva nelle ceste tanti mazzi di violette che impivano di profumo tutto il camerone. Io non sentì mai tanto contentezza come questa mattina a vedere mia madre che mi aspettava nella strada e glielo dissi andandole incontro. Sono contento! Cos'è mai che mi fa così contento questa mattina? E mia madre mi rispose sorridendo che era la bella stagione e la buona coscienza.